Questa che vedete è un sago worm, o verme sago. È tipo la larva di Bear Grylls, quella che si mangiava e che esplodeva. Solo che questa è secca. Mari, tutto bene? Sei pronta? Sì, sono pronta. È ricca di proteine, come diceva il nostro fantastico bere. Andiamo a tenere vicino. 3, 2, 1... Mamma mia. La bici in cantina. Allora, sono proteiche però, eh. Una delle più buone che abbiamo provato. Come fanno a mangiarsi queste robe, però? Madre di... Mi sento male. Basta, basta, diamoci un po' c'è l'acqua perché qua...